Ciao a tutti sorrisini e benvenuti in questo nuovo video! Questo è lo speciale 10.000 iscritti! 10.000 iscritti! Quindi, innanzitutto, prima di cominciare il video di oggi... Bellissimo! Ale! Vabbè, scusate, lui è il birra della famiglia, ormai lo conoscete, quindi è inutile, non ci fate caso. Comunque, allora, innanzitutto, prima di cominciare volevo dire questo richiestissimo Nutella Party in piscina, che vi faremo vedere. Abbiamo pensato a una cosa molto particolare e ci divertiremo di sicuro. Però, prima di tutto, volevamo dirvi... Grazie a tutti! Grazie a tutti, grazie mille! Siamo molto felici che vi piacciono i nostri video. e i video di questa mamma, un po' matta, e di questi figli... Non ho l'aggettivo, ancora lo devo trovare. Quindi, matti giù, sennò Gaia non si vede! Quindi, grazie anche Gaia per essere sempre con noi. Vero Ale? Lo 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 lo... La ringraziamo, Gaia! E' un piacere per te, Gaia! Tu dici! Sei sicura di fare ancora dei video con noi? Per me Gaia al prossimo giro si lascia, si abbandona. Nooo! Sono troppo matti! volevamo anticiparvi che faremo una cosa un po' particolare in piscina che ve la dice orale ci mettiamo 700 palloncini allora abbiamo preso praticamente una marea di palloncini penso che sia un busto da 250 penso che siano tre quindi penso che si è ragione 150 vabbè adesso speriamo che ci passi non vogliamo riprendere tutta la piscina quindi adesso ci vedrete fare questo bel lavoro quindi niente quindi al via questa giornata è a questo nutella party per i 10 mila allora ci siamo siamo qua con tutti i nostri palloncini a lega io ne ho già riempito uno cominciamo a metterlo dentro ok quindi dovremmo fare riempire tutta la piscina e piano piano ora ragazzi andiamo un po' avanti poi facciamo vedere un po' come stava adesso vi facciamo vedere la piscina a che punto è sta calmo sei un po' calmo andiamo a vedere a che punto è c'è piena vero andiamo a vedere ecco ragazzi aiuto non ce la faremo mai riempirla tutta vabbè ci mettiamo tutto il buon intento positivo la situazione è questa allora Thomas e Mattias sono entrati la situazione è questa qua ragazzi adesso mi sa che tra un po' cominciamo lo stesso a fare il gioco anche se non è piena piena di palloncini ok siamo prontissimi la piscina è stra piena di palloncini no in realtà non è vero la piscina non è piena di palloncini perché ragazzi abbiamo gonfiato tipo 150 palloncini sono anche troppi ma non non sa riempita cioè nel senso che ce ne sono fatemi vedere ce ne sono però non c'è riempita quindi ora facciamo lo stesso il nostro gioco con la nutella allora la challenge con la nutella consiste in ascoltatemi faremo due coppie ok quindi due squadre una coppia sarà composta da Alessia e Gaia e l'altra da Mattias e Thomas in vigilia ok allora cosa faremo io sarò dentro la piscina e sarò la loro disturbatrice dovrò nascondervi la nutella in un punto della piscina e fare in modo che loro non la prendano loro devono trovare la nutella uscire dalla piscina aprire la nutella e fare stavo lanciando i palloncini aprire la nutella e fare più pancarrè con la nutella possibili in 60 secondi avete capito? ma mamma mia ok ma tipo se dai e Ale prendano la nutella noi cosa facciamo? no a coppie partono dai e Ale e voi dopo fate te e Mattias quindi attiviamo il cronometro oggi sabato ci dà una mano con il cronometro io andrò dentro e farò la loro disturbatrice farò in modo che loro non prendano la nutella ok? quindi siete pronti? si chi vincerà secondo voi? noi 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 io però io però come ruolo la disturbatrice ci sta mi divertirò un sacco noi 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 va bene quindi via cominciamo col gioco io sono pronta per entrare in piscina allora Gaia e Alessio giratevi non ti ripreso giratevi non dovete vedere dove nasconde la nutella ragazzi io entro in piscina vestita tanta roba si alzava pronto quel cronometro come hai preso? quanto devo fare? è congelata ma voi siete fuori allora ancora fermi eh? si si allora io adesso mi nasconderò la nutella vuoi fermi non spiare Alessio? no posso andare posso andare la metterò ma anche chiusi? stai girando ma anche chiusi? dobbiamo trovare l'antella? no 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 allora no no io sono seria ho gioco pulito io vabbè vabbè la metterò non lo so è la bisacca è la bisacca è la bisacca è la bisacca l'ho nascosta qua allora al mio via al mio 3 1 2 3 via Sam attiverà il cronometro voi avete 6 giratti 60 secondi per trovare la nutella trovare la nutella uscire dalla piscina sedervi uno a destra all'altra sinistra fai più panini con la nutella possibili quindi al mio via facciamo un minuto e mezzo si facciamo un minuto e mezzo ok quindi 3 dillo tu dillo tu 3 2 1 GO 2 1 2 2 2 3 2 3 ti devi sedere ti devi sedere quanto sei? 30 secondi 30 secondi ti devi sedere dobbiamo valutare il panino dopo eh io disturbo io disturbo quel tuo non ci piace non ci piace il panino anche il tuo non ci piace Gaia non vogliamo mangiarsi la panchina dopo il panino che schifo Gaia ti stai scocciolando dentro per essere tutto coperto ok ok dai panino un minuto dai oh no no c'è un po' di sole finanziaria un minuto per mamma mia Ale hai fatto un panino che non si può guardare troverete di pane 3 panini Gaia più 4 1 Ale quanto siamo? 1 minuto e 15 1 minuto e 15 secondi 15 10 9 8 7 6 1 1 1 1 2 4 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 6 6 7 7 8 8 7 8 8 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 10 11 11 14 15 15 15 16 16 16 16 16 18 16 17 faremo la scelta corda con ora, vediamo quanti pannini realizzeranno Mattia e Tom quindi quindi pronti, nascondiamo la nutella, il mio 3 cioè il 3 di semplicistava, scusate voi potete partire a saltare la nutella, capito? quindi aspettate, la devo nascondere allora, pronti? 3, 2, 3, 1, go, via vai che la provate, vai che la provate dai guarda fuori c'è un'altra Mattia, vai prendere l'altra non ce n'è un'altra vai l'altra è allora seduta, porta, dobbiamo fare i saliri gliel'apro io trappone dai, per il metronometro, facciamo quanto era arrivato è intervento quando gli uomini chiudono i barattoli quindi adesso riparto, la apro e via allora, vi dice via papino vai oi moscerini c'è un'ape vai Matti, non è vero, mi fa per disturbare vai e chiudi, chiudi, chiudi e no, tu non puoi, vai vai, tu devi stare là grazie a me grazie a me ma cos'è quel cosa? non è un panino quello ma ti ascomandare, devi usare con l'altro panino vai, altro panino ma cosa vuol dire? cos'è quella roba? che sto accolmando duramente vai Matti ma non è più che può povera nutella mancano dieci secondi dieci nove otto quale scolmando bravo tre allora adesso mettiamo la piscina dai 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 no no non ti faccio la piscina scolmando allora ne abbiamo fatti sei ne hanno fatti sei anche loro per la città che banda di mano aiuto ne hanno fatti sei anche loro però devo dire che sono stati bravi sì però decreto il vincitore vincitorio alessio le gaia perché i panini erano più belli sì però siete stati bravissimi occhi che col coltello non vengono più di mano adesso li potete mangiare se voi i panini al cloro ho mangiato uno no Saba vuole un panino con la nutella? no grazie no grazie ragazzi spero che il video vi sia piaciuto che vi sia tenuto quindi adesso riempiamo alle di pallone di pallone di pallone si può riempire di pallone allora se il video vi è piaciuto mettete like e iscrivetevi al canale mi raccomando vogliamo diventare velocissimamente 100.000 prossima taffa 20.000 giusto? sì quindi grazie ancora per essere stati con noi perché ci siete sempre vicino e vi divertite assieme a noi vi ringraziamo ancora tanto per i 10k tantissima quindi che dire ci vediamo al prossimo video un pezzo da Miss Mama Sorriso Pan a Miss Mama